Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Molti rumors hanno preceduto questa notizia che ha tutto l'aria di essere ufficiale. Silvia Toffanina e Pier Silvio finalmente sposi, era stato promesso anche a Silvio Berlusconi, in punto di morte. Sicuramente il grande evento avverrà nell'anno 2024. Vediamo come potrebbe essere i dettagli sul matrimonio della conduttrice di Verissimo con l'amministratore di Mediaset. Dopo la lunga convivenza e i due figli pare sia arrivata la svolta fatale, Silvia Toffanina e Pier Silvio Berlusconi, in termini pratici, stanno vivendo già come marito e moglie, però ufficialmente. La coppia abita a Portofino, a Villa San Sebastiano, con i loro bambini e sembra si siano decisi a sposarsi. Il sindaco della cittadina Ligure si è dimostrato onorato di celebrare le nozze della coppia, che è probabile i due si sposi nella chiesetta ubicata all'interno della loro proprietà. Coma sarà l'evento più atteso dell'anno? Pier Silvio e Silvia vivono già a Villa San Sebastiano, a Portofino, nella dimora cinquecentesca di 1300 metri quadri, con nove camere, sette bagni, un frutteto, un uliveto, un vigneto e una piscina. All'interno della lussuosa abitazione, a quanto pare, ci sarebbe anche una cappella privata dove i due potrebbero sposarsi lontano dai fotografi. Si delinea una cerimonia privata e riservata, nello stile dei due, entrambi sobri e mai sopra le righe. La solenne data non sarebbe stata fissata, la coppia convolerebbe a nozze entro l'estate dell'anno prossimo. Non ci sono ancora conferme, da molti anni la coppia ha peraltro.